Abbiamo concluso il video precedente di questa serie dicendo che il 31 ottobre del 1922, dopo che le camicie nere hanno sfidato per più di sei ore davanti al re, Mussolini fa pubblicare sul quotidiano Il Popolo d'Italia l'ordine di smobilitazione. Possiamo procedere. Fra le iniziative del governo Mussolini ricordiamo, in politica estera l'accettazione dello status quo col regno di Jugoslavia in merito alle frontiere orientali, l'istituzione di norme per la protezione della minoranza italiana in Dalmazia e la firma degli accordi di Washington sul disarmo navale. In politica interna vi è il tentativo di normalizzazione, tra virgolette, delle squadre fasciste, l'approvazione di provvedimenti a favore degli invalidi di guerra, la riduzione drastica della spesa pubblica, l'istituzione del Parco Nazionale del Gran Paradiso e la riforma della scuola del 1923, passata alla storia come riforma gentile, che Mussolini definisce la più fascista delle riforme. La riforma gentile prende il nome dal suo ispiratore il filosofo Giovanni Gentile, allora ministro della pubblica istruzione, ed è figlia di una visione della scuola di tipo aristocratico, dedicata quindi a pochi, in teoria ai migliori. A livello secondario la scuola viene rigidamente suddivisa in un ramo classico umanistico, destinato alla formazione della futura classe dirigente, e in un ramo professionale per il popolo e la classe lavoratrice. La religione cattolica è insegnata obbligatoriamente a livello primario. Gentile ritiene infatti che tutti i cittadini debbano possedere una conoscenza religiosa, che per le classi popolari in particolare è il maggior traguardo intellettuale raggiungibile. Al contrario, per la formazione dell'élite della nazione, compito questo affidato ai licei, Gentile non reputa più necessario lo studio della religione ma quello della filosofia. Nei licei viene infatti reso obbligatorio lo studio della filosofia e non quello della religione. Tuttavia nel 1929, con la firma dei patti lateranensi, che tra gli altri provvedimenti stabiliscono la religione cattolica come religione di Stato, il suo studio viene esteso anche ai licei, cioè lo studio della religione. La riforma Gentile si occupa anche dell'istruzione dei disabili, anche se l'interesse è rivolto soltanto ad alcune specifiche disabilità. L'obbligo scolastico viene infatti esteso solo ai ciechi e ai sordi. In vista delle elezioni del 6 aprile del 1924, il Parlamento approva una nuova legge elettorale, la legge Acerbo, che prevede l'assegnazione dei due terzi dei seggi alla lista che ottenga la maggioranza con almeno il 25% dei voti. La campagna elettorale si tiene in un clima di grandissima tensione, con innumerevoli episodi di violenza e di intimidazione. La lista nazionale, guidata da Mussolini, ottiene la maggioranza assoluta con il 64,9% dei voti. Il 30 maggio del 1924 il deputato socialista Giacomo Matteotti prende la parola alla Camera per contestare i risultati delle elezioni. Citiamo dal suo discorso, aperte virgolette, contestiamo in questo luogo e in tronco la validità delle elezioni della maggioranza. Nessun elettore italiano si è trovato libero di decidere con la sua volontà. Vi è una milizia armata, composta di cittadini di un solo partito, la quale ha il compito dichiarato di sostenere un determinato governo con la forza, anche se adesso il consenso mancasse. Rivolgendosi poi ai suoi compagni di partito dice io il mio discorso l'ho fatto, ora voi preparate il discorso funebre per me. La proposta di Matteotti di far invalidare l'elezione di almeno un gruppo di deputati, quelli che secondo le sue accuse erano stati illegittimamente eletti a causa delle violenze e dei brogli, viene respinta dalla Camera. Il 10 giugno del 1924, mentre si sta recando a piedi verso Montecitorio, Matteotti viene aggredito e caricato in un'auto da cinque individui che in seguito vengono identificati come membri della polizia politica fascista. Nell'auto scoppia una colluttazione e Matteotti riesce a gettare fuori dall'auto il suo tesserino da parlamentare che viene ritrovato da due contadini presso il ponte del risorgimento, ma subito dopo uno dei rapitori lo colpisce a morte con un coltello. I rapitori si disfano poi immediatamente del corpo del deputato seppellendolo nella macchia della quartarella, un bosco nel comune di Riano a 25 chilometri da Roma. L'assenza di Matteotti in Parlamento non viene notata la sera stessa, ma già il giorno dopo, quindi l'11 giugno, la notizia della scomparsa e su tutti i giornali. Le indagini sull'omicidio Matteotti, coordinate dal magistrato Mauro del Giudice, portano quasi subito all'individuazione e all'arresto dei rapitori e dell'assassino Amerigo Dumini. Dopo poco tempo però, e dietro diretto interessamento del duce, l'incarico gli viene tolto e le indagini fermate. Successivamente del giudice viene allontanato dalla capitale e qualche anno dopo portato al pensionamento forzato. Ad ogni modo, accertato il coinvolgimento di uomini del partito di governo nel rapimento e uccisione di un leader dell'opposizione, uomini del calibro di Ivanoe Bonomi, Antonio Salandra e Vittorio Emanuele Orlando, chiedono con forza al re di intervenire destituendo Mussolini. Ma Vittorio Emanuele III se ne lava le mani rispondendo «Io sono sordo e cieco. I miei occhi e le mie orecchie sono il Senato e la Camera». Per cercare di porre rimedio alla delicatissima situazione, il 17 giugno del 1924 Mussolini impone le dimissioni a Cesare Rossi, capo ufficio stampa della Presidenza del Consiglio, e ad Aldo Finzi, vice capo della Polizia, indicati sia dall'opinione pubblica sia dalle indagini del magistrato del giudice come i più coinvolti nel delitto per via delle loro frequentazioni con gli uomini di Dumini. Viene dimissionato anche il capo della Polizia, Emilio De Bono, e il giorno seguente lo stesso Mussolini rinuncia alla guida del Ministero dell'Interno che affida a Luigi Federzoni. Il 24 giugno viene riunito il Senato che riconferma la fiducia a Mussolini con 225 voti favorevoli su 252. Due giorni dopo i parlamentari dell'opposizione si riuniscono in una sala di Montecitorio, oggi nota come Sala dell'Aventino, e decidono di abbandonare i lavori parlamentari finché il governo non avesse chiarito la propria posizione sull'omicidio Matteotti. L'8 luglio del 1924, approfittando dell'assenza dell'opposizione, il governo vara nuovi regolamenti al fine di mettere il bavaglio alla stampa. Il corpo di Matteotti viene ritrovato per caso solo nella mattina del 16 agosto, dal cane di Ovidio Caratelli, un brigadiere dei canabinieri in licenza. Per l'identificazione sarà necessaria una perizia odontoiatrica, in quanto il corpo si trova in avanzata fase di decomposizione. Il 20 agosto parte da Monte Rotondo il treno che riporta Matteotti a Fratta Polesine, suo paese natale. La vedova di Matteotti qualche giorno prima dei funerali scrive al ministro degli interni chiedendo che al funerale non siano presenti esponenti del PNF e della milizia. Fin dai primissimi momenti successivi al sequestro, presso parte dell'opinione pubblica si diffonde la convinzione che Mussolini sia il responsabile ultimo dei fatti. Mussolini stesso, il giorno seguente al discorso di Matteotti, aveva infatti scritto sul popolo d'Italia che la maggioranza era stata troppo paziente e che la mostruosa provocazione di Matteotti meritava qualcosa di più concreto di una risposta verbale. Come potete immaginare alcune teorie storiografiche sostengono la colpevolezza di Mussolini, altre la sua estraneità al fatto. Il già menzionato Cesare Rossi, infuriato per essere stato usato come capro espiatorio, il 22 giugno del 1924 scrive un memoriale che verrà pubblicato il 27 dicembre sul giornale Il Mondo, in cui racconta dell'esistenza e del funzionamento di un gruppo di squadristi a cui veniva affidata l'esecuzione di rappresaglie e di vendette politiche. Questo gruppo, conosciuto col nome di CECA, C-E-K-A, esattamente come la polizia politica sovietica, era antisignano della polizia segreta fascista chiamata OVRA, O-V-R-A, quindi Organizzazione per la Vigilanza e la Repressione dell'antifascismo. Sempre secondo Rossi, Mussolini approvava e spesso ordinava direttamente i delitti compiuti dal CECA. Quello che accade nella notte tra il 31 dicembre del 1924 e il 1 gennaio del 1925 non è mai stato accertato con precisione, ma alcuni storici sostengono che una quarantina di consoli della milizia, guidati da Enzo Galbiati, comandano a Mussolini di instaurare la dittatura, minacciando di rovesciarlo se non lo avesse fatto. Comunque siano andate le cose, soltanto tre giorni dopo, il 3 gennaio del 1925, con un discorso alla Camera, Mussolini si assume personalmente la responsabilità di aver creato il clima di violenza in cui tutti i delitti politici compiuti in quegli anni erano maturati. Con parole sue, aperte virgolette, ebbene dichiaro qui, al cospetto di questa assemblea e al cospetto di tutto il popolo italiano, che io assumo io solo la responsabilità politica, morale, storica di tutto quanto è avvenuto. Se il fascismo è stato un'associazione a delinquere, io sono il capo di questa associazione a delinquere, chiuse virgolette. Nello stesso discorso Mussolini denuncia la strategia dell'Aventino come sovversiva e promette azioni decise contro i suoi avversari politici. Con parole sue, aperte virgolette, l'Italia, o signori, vuole la pace, vuole la tranquillità, vuole la calma laboriosa. Gliela daremo con l'amore, se possibile, o con la forza, se sarà necessario. Voi state certi che nelle 48 ore successive al mio discorso la situazione sarà chiarita su tutta l'area, chiuse virgolette. Quella stessa notte il Ministro dell'Interno invia ai prefetti due telegrammi riservati che traducono in pratica i propositi del Presidente del Consiglio. Le autorità vengono autorizzate ad avvalersi senza scrupoli del fermo temporaneo nei confronti degli oppositori politici e invitate a esercitare la più stretta sorveglianza e, se necessario, ad attuare la chiusura forzata di ogni tipo di associazione che possa costituire un pericolo per l'ordine pubblico. Inoltre, i prefetti vengono invitati ad applicare con rigore assoluto il decreto che conferisce ai prefetti stessi, ossia al Governo, il potere di sequestrare i giornali che diffondano notizie false e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico. Una successiva circolare interpretativa del Ministro dell'Interno, e questo molto interessante, autorizza il sequestro dei giornali anche nel caso in cui le notizie turbative dell'ordine pubblico siano veritiere. Nell'arco di una settimana centinaia di persone vengono arrestate e moltissimi locali e associazioni vengono chiusi per le ragioni più svariate. Pochi giorni dopo, il 14 gennaio, la Camera approva in blocco e senza discussione moltissimi decreti legge emanati dal Governo, denominati successivamente leggi fascistissime. Il discorso di Mussolini del 3 gennaio del 1925 è considerato dalla maggior parte degli storici l'atto di forza con cui convenzionalmente si fa iniziare la fase dittatoriale del fascismo. Molto bene, questo video termina qui, vi ringrazio sinceramente per l'attenzione. Alla prossima!